Uno degli argomenti di discussione preferiti tra gli appassionati di cinema è dibattere sui remake. In un periodo in cui molto spesso vengono rifatti vecchi film, si dice ma ha senso rifare un film magari molto recente? Ecco, il film che vediamo stasera dimostra che il senso c'è e come. Parliamo di Il nome del figlio, di Francesca Archibugi, che è il remake di A cena fra amici, un film francese che abbiamo visto e rivedremo anche su Rai Movie prossimamente, e di cui l'archibugi riprende praticamente tutto l'impianto. Abbiamo due coppie di amici con un quinto amico che si unisce a loro per una cena, durante la quale uno di loro, un po' così, uno che ama scherzare senza troppo farsi problemi se lo scherzo sarà o meno ben accettato, li informa che ha deciso di dare al figlio non ancora nato il nome di Benito, che è un nome che si può ben capire, soprattutto in una famiglia di sinistra, insomma porta degli echi abbastanza scomodi, e questo scatena una serie di discussioni, di recriminazioni, fa rivelare dei segreti che fino a questo momento sono rimasti nascosti, che mette a dura prova il rapporto tra questi cinque personaggi. L'impianto è decisamente teatrale, si svolge tutto all'interno della casa dove si svolge la cena, così come avveniva nella versione originale francese, che a sua volta era tratta da una pièce teatrale. Il piacere di questo film è sentirlo più vicino a noi grazie al cast, perché nonostante gli attori del film originale francese fossero bravissimi, avere Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, Rocco Papaleo, Luigi Locascio e Valeria Golino, immediatamente dà una familiarità con il materiale che nella versione originale francese, pur doppiata benissimo, non si poteva avere. Oltre a questo l'Archibugi aggiunge una serie di elementi diversi, ci sono dei flashback che ci raccontano l'infanzia e il passato dei personaggi, e c'è anche un'idea molto bella, musicale, in cui il raccordo tra il passato e il presente diventa una canzone di Lucio Dalla, Telefoni tra vent'anni. È un film che vi invito a vedere, se non l'avete già visto, a rivederlo, e vi invito anche a giocare un po' con Rai Play e rivedervi anche la versione francese cena tra amici, perché è divertente capire come due registi diversi abbiano lavorato sullo stesso materiale creando due film, tutti e due divertenti, tutti e due capaci di far pensare e tutti e due emozionanti in modo diverso.